I problemi nella sanità non sono solo di emergenza, infatti è da tempo che l'Ambito 11 non ha pediatra, abbiamo sentito quindi il sindaco di Sendori. Vediamo il servizio. Il bando è stato pubblicato a seguito del pensionamento di Dottor Pugioni, che era pediatra di Sendori. Il bando per la pediatra andata in pensione assorso ancora non è stato pubblicato. Però questo non deve essere oggetto di polemica, solamente ci aspettavamo almeno da parte dell'ASL che almeno un giorno di servizio, uno o due giorni fosse dedicato alla comunità di Sendori. Purtroppo all'interno del bando che è stato pubblicato non è stato vincolato il pediatra a garantire il servizio nei tre comuni. I genitori dei bambini sono disperati perché anche per un semplice certificato medico e un controllo di routine sono costretti a portare i loro bambini al pronto soccorso pediatrico di Sassari. Credo che su questo andazzo non ci siano né giustificazioni né spiegazioni a dare, se no evidenziare tutta una totale inefficienza e mancanza di programmazione da parte dell'ASL. Prima che dottor Pugioni, l'ex pediatra di Sendori, andasse in pensione, mesi prima avevamo scritto all'assessore e anche al direttore generale per avere notizie, per organizzarsi per l'eventuale sostituzione. Non abbiamo avuto purtroppo nessuna risposta e oggi queste sono le conseguenze. Più volte avevo continuato a scrivere e insistere anche come presidente del comitato di distretto di Sassari, ma non abbiamo mai ottenuto risposta. Speriamo che con il nuovo assessore, che è molto disponibile, che si avvii un nuovo dialogo e che comunque si trovino delle soluzioni. Grazie a tutti.